E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avete detto dal titolo finalmente abbiamo raggiunto la soglia dei 1000 iscritti e siamo qui fondamentalmente per ringraziarvi, ringraziare i nostri iscritti in primis, adesso ci viene in mente Light, Paul, Eliminator Legend per fare qualche nome ma vi ringraziamo tutti dal primo all'ultimo perché ovviamente senza raggiungere i nostri iscritti E un ringraziamento speciale anche agli youtubers della community italiana di Destiny che ci hanno aiutato in questo percorso ad arrivare a questa soglia che per noi è molto importante quindi grazie mille a tutti per l'aiuto e la compagnia In ogni caso adesso parliamo di quello che vi interessa veramente e probabilmente il motivo per cui avrete aperto il video ovvero quale modo migliore per ringraziarvi se non regalandovi qualcosa Abbiamo deciso che per i nostri 1000 iscritti organizziamo un contest, un contest che si svolgerà in più fasi e che speriamo durerà abbastanza Il premio che abbiamo scelto di regalarvi è una statuetta scelta del vincitore tra quelle di Kay, di Cora e Zavala che comunque vedete adesso a schermo Avrete più possibilità di essere estratti per la fase successiva del contest seguendo queste modalità Innanzitutto per partecipare come requisito di base dovete mettere like a questo video, essere iscritti al canale, commentare con hashtag demillecontest L'hashtag che vedete comunque a schermo Mi raccomando questa è una parte molto importante perché il sito che utilizziamo per fare le estrazioni riconosce gli hashtag Quindi mi raccomando mettete gli hashtag e accendere la campanellina Se volete duplicare la vostra possibilità di essere estratti per la fase successiva dovrete seguirci su Instagram Commentare la foto che non è altro che la miniatura di questo video sempre con l'hashtag demillecontest e taggare tre persone Se volete addirittura triplicare le possibilità di essere estratti dovrete mettere mi piace sulla nostra pagina Facebook Mettere mi piace sempre alla stessa foto, commentare con hashtag demillecontest e taggare tre amici Quindi essenzialmente se volete essere praticamente sicuri di essere estratti per la prossima fase Vi conviene partecipare su tutti e tre i social in modo tale da avere molte molte più possibilità Come vi è stato già detto il contest sarà diverso da più o meno tutti gli altri Sarà articolato in più fasi e tranne la prima per una scrematura iniziale che sarà fatta con un'estrazione casuale Le altre fasi che saranno abbastanza numerose saranno tutte improntate sul valutare la vostra abilità e le vostre competenze in certi campi Quindi potrete mettervi a confronto tra di voi per arrivare al premio di questo contest Ovviamente dopo questa prima fase di scrematura tutte le sfide che andrete ad affrontare andranno registrate e poi condivise sul canale Quindi sapete che se avete intenzione di partecipare dalla vostra parte ci deve essere la disponibilità per registrare e per condividere appunto anche questi video sul canale Per questa fase iniziale dato che andremo in vacanza quindi non ci saremo per un certo periodo avete tempo fino alla fine del sostizio degli eroi quindi fino al 28 agosto Dopodiché procederemo noi a fare la fase di scrematura iniziale in live Quindi mi raccomando non perdetevi la live che decideremo poi quando fare comunque negli ultimi giorni di agosto E durante la quale estrarremo i partecipanti che passeranno il turno che quindi arriveranno alla prossima fase e vi comunicheremo anche in cosa consisterà Quindi vi ringraziamo ancora tutti per il supporto che ci avete dato e ci state ancora dando in questo periodo Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video mi raccomando passate dai social che come ogni volta sono in descrizione e che vi risulteranno molto utili come link Ricordate di iscrivervi al contest e mi raccomando sotto questo video non sotto altri video E detto questo ci vediamo alla prossima ciao Ciao